Lavori pavimentazione sul nuova 106, chiuso svincolo di squillage. ANAS ha programmato gli interventi previsti nell'ambito dell'accordo quadroquadriennale per il ripristino della pavimentazione sulla strada statale 106, VAR A di Catanzaro Lido. Nel dettaglio, per consentire l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza a partire da lunedì 17 fino al 21 ottobre 2022, si rende necessario provvedere alla chiusura al traffico della rampa in uscita dello svincolo di squillage. Il traffico veicolare potrà usufruire del percorso alternativo lungo la strada statale 106, VAR A in direzione Reggio Calabria, con inversione di marcia e prosecuzione lungo la vecchia sede della statale 106. Lungo la strada statale 106, VAR A, a partire da lunedì e fino al 21 ottobre, sarà inoltre in vigore la chiusura della rampa in ingresso dello svincolo di squillage. Il traffico veicolare potrà usufruire del percorso alternativo lungo la strada provinciale 165-2, con proseguimento lungo la vecchia sede della statale 106. Inoltre, per l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione, sarà in vigore la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Germaneto in direzione Taranto. Il traffico veicolare potrà usufruire del percorso alternativo lungo la strada statale 106, VAR A in direzione Reggio Calabria, con inversione di marcia nei pressi dello svincolo di Borgia. Infine, lungo la strada statale 106, VAR A, sarà in vigore la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Germaneto, effettuando un'inversione di marcia presso lo svincolo di Santa Maria. Grazie. Grazie.